5 minuti con Mister Italiano anche questa settimana, pre-Bologna, partiamo subito con la prima domanda. Salve Mister, le volevo chiedere se secondo lei un obiettivo concreto è la vittoria della Coppa Italia quest'anno e rivedere un trofeo a Firenze dopo più di 20 anni. Grazie mille e forza Viola. Matteo Daccampi. Ma è un obiettivo che volevamo soprattutto quello di arrivare in questa semifinale, che l'abbissiamo insieme a quella dello scorso anno e quindi è un obiettivo dove tutti siamo felici di averlo raggiunto. Andremo ad affrontare una squadra che ha eliminato Roma, Napoli, quindi una doppia partita difficile, però abbiamo la capacità di poter far bene anche in questa semifinale, quindi sarà molto più avanti, ci sarà ancora del tempo, ma cercheremo di prepararci bene e affrontarla nel migliore dei modi. Abbiamo la possibilità di arrivare ancora lontani, quindi siamo felici intanto di questo obiettivo e ce lo godiamo. Andiamo avanti con il prossimo tifoso. Salve Mister, crede ancora a un piazzamento europeo tramite il campionato? Ma in campionato siamo in ritardo purtroppo, ma c'è la speranza di continuare a credere, a sognare qualcosa di importante, soprattutto per il fatto che se dovessimo continuare ad esprimerci in questo modo qua, sono convinto che punti e posizioni ne possiamo guadagnare tanti, quindi nulla è compromesso. Abbiamo quest'ottavo, settimo posto da poter raggiungere e in questo momento penso che dobbiamo concentrarci su quello. Le prestazioni stanno migliorando, stiamo iniziando ad alzare il livello, quindi pensiamo partita dopo partita e vediamo dove possiamo arrivare. Ciao Mister, ho 18 anni, sono Di Arezzo e sono un grande tifoso viola fin da piccolo. Volevo chiederti come sarà la formazione di domenica, dato che sarò presidente allo stadio e come avete preparato la partita. Grazie. Ma andiamo ad affrontare una squadra che sta bene, che è in salute, che si sta esprimendo molto bene. e quindi ho messo già in guardia i ragazzi, sappiamo che dobbiamo cercare di fare una grande prova e dobbiamo cercare, come ho detto prima, essendo in ritardo in campionato, di ottenere punti. Ottenere punti attraverso la prestazione, attraverso la grande attenzione ed è quello che dobbiamo cercare di fare, perché questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare. Quindi abbiamo giocato quest'infrasettimanale in Coppa, abbiamo qualche ragazzo ancora non al 100%, ma gli 11, come dico sempre, saranno 11 agguerriti e cercheranno di fare il massimo per arrivare a dare questa gioia ai nostri tifosi. Rispetto alla partita d'andata, che Bologna troveremo domani? Ma nella gara d'andata fu una partita dove eravamo andati in vantaggio, poi per due episodi abbiamo perso una partita che potevamo tranquillamente portare a casa con qualche punto importante, quindi troviamo un Bologna totalmente diverso, perché in quella partita avevano cambiato allenatore, adesso invece con il nuovo mister hanno un'identità ben precisa e giocano bene, quindi per noi sarà una gara difficile, ma come tutte del resto, perché in questa categoria non esiste una partita facile, va affrontata con la massima concentrazione ed è quello che intanto dobbiamo cercare di non sbagliare. Poi, se siamo bravi con le qualità che abbiamo da poter mostrare, sono convinto che possiamo prenderci una bella soddisfazione. Ascoltiamo il prossimo audio. Ciao mister, Brecalo lo vede come un possibile titolare per il Bologna o ancora deve entrare nei meccanismi? A Brecalo siamo contenti di averlo con noi perché è un giocatore di qualità, è un giocatore che gli piace stazionare a sinistra, gli piace entrare dentro al campo, gli piace lavorare con gli attaccanti, è un ragazzo davvero molto interessante, però è arrivato da poco, deve entrare dentro i meccanismi, anche a livello di condizione fisica non è al top, quindi pian pianino stiamo cercando di inserirlo, di fargli crescere questa sua condizione e poi, siccome è molto intelligente, soprattutto dentro al campo, ci metterà presto a far vedere il suo valore. Però è a disposizione, la gara è in corso, in questo momento secondo me può darci qualcosa e domani vediamo se potrà essere per lui la prima apparizione con la nuova maglia. Ci hanno chiesto anche di Amrabat, dopo l'infortunio sarà dei vostri per la partita di domani? Sì, ha questa maschera e domani sarà in campo con questa protezione, ha il naso rotto, però non è la prima volta, ne abbiamo già altri di giocatori mascherati, quindi ci siamo abituati. Anche domani siamo a oltre quota 30.000 tifosi allo stadio? Sì, siamo contenti, siamo contenti soprattutto per aver dato una bella soddisfazione mercoledì, siamo riusciti a portare dalla nostra parte lo stadio, il pubblico, la gente, che è quello per cui lavoriamo. Siamo felici che saranno in tanti anche per questa partita, perché l'ho sempre detto, sono un valore aggiunto, ci possono trascinare e tutti insieme possiamo in tutte le gare casalinghe mettere in difficoltà i nostri avversari. Quindi sono felice perché confermano che l'amore per questa maglia non finisce mai e domani abbiamo un altro obbligo, quello di regalare un'altra gioia a questi nostri tifosi.